E' l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce. Un tema purtroppo di scottante attualità, di sismologia, di sismologia in Veneto e in provincia di Vicenza, si è parlato nel corso di un convegno ospitato da Confartigianato. Un'opportunità per raccogliere utili indicazioni su come professionisti e imprese dell'edilizia possono intervenire per mettere in sicurezza edifici costruiti in anni in cui non vera l'obbligo di osservare criteri antisismici. Esiste una classificazione che identifica, in base alla conformazione del sottosuolo, le zone più o meno a rischio di terremoti, dalla 1, la più esposta, alla 4, dove l'eventualità di un sisma è remota. E il Vicentino, da questo punto di vista, come sta? La provincia di Vicenza, in particolare, con la nuova classificazione del territorio nazionale dal punto di vista sismico, ricade essenzialmente nella fascia 3, nella zona 3, la stragrande maggioranza dei comuni, con alcune differenziazioni. In questo senso, nella parte nord-orientale, nella zona del Bassanese, ci sono tre comuni, Mussolente, Pove del Grappa e Romano degli Ezzerini, che ricadono in zona 2, per questioni geologico-strutturali profonde, e nella parte nord-occidentale, il comune di Crespadoro. Nella parte meridionale della provincia, invece, di converso, c'è un abbassamento della soglia di pericolosità, per cui alcuni comuni, proprio del Basso Vicentino, Poiana, Asiliano, Albetone, ricadono, diciamo, in zona 4. Quello che può attenuare il rischio sono soprattutto le condizioni geolitologiche e strutturali, ecco, e anche le condizioni geomorfologiche. Cioè, un'area di pianura con alluvioni fini, limose, agillose, sabbiose, con falda superficiale, è una zona potenzialmente a rischio. Ecco, le zone, per esempio, forse, da un punto di vista strutturale e geologico, più sicure potrebbero essere, se non ci sono delle faglie proprio interconnesse, proprio nell'area di interesse, possono essere le zone, diciamo, montane, collinari, con substrato roccioso affiorante sano dal punto di vista strutturale. Sismologia, scontato che l'argomento oggi desti attenzione. E il problema è proprio questo. Siamo tutti emotivamente più sensibili al riguardo, solo nei momenti immediatamente successivi ai terremoti. Il convegno proposto da Lions Club La Rotonda di Vicenza, in collaborazione con Confartigianato, Club Lions Oste e Arzignano e Club Giovani Soci della Cassa Rurale Artigiana di Brendola, ha posto proprio l'accento sulla necessità che si agisca sul fronte della prevenzione, quella che innanzitutto consente di mettere al sicuro le persone. Di fatto si dimentica rapidamente e ciò porta ad ignorare o trascurare, ha rilevato il professor Roberto Scotta dell'Università di Padova, norme come ad esempio un'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 2003 che stabilisce l'obbligo della verifica sismica degli edifici definiti strategici e rilevanti. Strategici sono gli ospedali, le caserme, i municipi e tutte le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici è fondamentale. Tra gli edifici rilevanti, ha spiegato ancora il professor Scotta, figurano ad esempio asili, scuole, palazzetti sportivi, stadi, fabbriche che accolgono oltre 100 persone, edifici di altezza superiore ai 24 metri alla linea di Gronda. Ma è sempre possibile mettere in sicurezza gli edifici? Sicuramente sì, è possibile e anche doveroso. Ci sono delle situazioni di rischio sismico che sono palesi, sono ben evidenti, ed è possibile intervenire migliorando anche in maniera molto importante la sicurezza sismica di un edificio con pochi e mirati interventi, quindi con piccoli costi a volte si riesce a migliorare di molto la sicurezza di un edificio. Per esempio qualche tirante in acciaio, qualche piastra di collegamento, interventi minimali che direi quasi quasi anche il singolo privato riesce a fare con i propri mezzi. Il nuovo oggi come si presenta? Il nuovo si presenta sicuro, abbiamo una normativa sismica all'avanguardia a livello europeo, direi a livello mondiale, e quindi progettando edifici nuovi, secondo questa normativa, si riesce a realizzare edifici di sicura sicurezza sismica. Ecco, torniamo a questi interventi preventivi. Magari qualcuno può essere spaventato dai costi. Si può fare una valutazione all'incirca metro quadro? Direi che è troppo semplicistico affrontare in questo modo la cosa, nel senso che dipende molto dalle caratteristiche dell'edificio e dal livello di miglioramento che si può ottenere. Quello che posso dire è che buoni livelli di miglioramento inizialmente si ottengono con costi molto bassi che si possono valutare sull'ordine di qualche decina di euro a metro quadrato di edificio. Quindi sono interventi che vanno consigliati e bisogna diffondere la cultura, della conoscenza del proprio edificio. Cioè noi dobbiamo conoscere i nostri edifici, dobbiamo fare un'indagine sui nostri edifici per capire qual è la loro criticità. E poi attraverso queste indagini e conoscenza poi andare a pianificare gli interventi minimali da fare. Per taluni edifici, come sommariamente si è detto, non si tratta di un optional, ma al di là di questo va promossa la cultura della prevenzione. In campo medico nessuno trascura di curare la propria salute e ai primi sintomi di una malattia fa qualcosa. Lo stesso dobbiamo fare per le nostre costruzioni. Viviamo le nostre costruzioni in maggior parte del nostro tempo. È impossibile, non è umano direi, trascurare la sicurezza delle nostre costruzioni.